ti chiedo di appoggiare il bouquet appoggia il bouquet adesso c'è un momento ve la sentite ok adesso facciamo le promesse per cui mettetevi l'uno contro l'altro così anche quelli che sono dentro vi vedono c'è un microfono allora signori silenzio perché lo fanno senza microfono per cui io faccio un sottofondo a chitarra leggera un'altra cosa Un grandissimo applauso agli sposi signori. Una casa vuota che sembra la nostra, il caffè con limone contro l'engover sembri una fotomossa. E ci siamo fottuti ancora, non ho la teoria locale e meno amare. Quando la vita può esagerare. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Allora, hai cominciato a sciogliere l'anelli, ragazzi? Sono solo sviluppo in tutto l'universo. A gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così. Che nessuno li guarda più in film. I fiori nella tua camera. La mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento. In una casa vuota che sembra la nostra. Perci tra le persone con te guarda. Prendito le cedendo le mani. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori all'organe. Signore, un applauso a Mauri che sta perdendo i pezzi. È un bel momento, ragazzi. Allora, anche questa fase, questa fase, la facciamo in silenzio. Per cui loro si guarderanno negli occhi, si diranno quello che vogliono, daranno un bacio all'anello. L'anello ti raccontano che si mette sulla mano sinistra perché c'è la vena che va al cuore, bla 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 bla, prendi due anelli, fa un infinito. Però in realtà l'anello è una delle forme primordiali che è più simile a quello di un guinzaglio di un cane. Seguitemi nel discorso, signore. Avere qualcuno che ti aspetta a casa e guardare l'anello ti ricorda che tu sei a casa quando l'altra persona c'è con te. Per cui non importa dove siate, non importa chi sia assieme. Per cui è una certezza trovare una persona che ti aspetta. È una certezza avere magari un paio di vangolo. Però è una cosa meravigliosa sapere che dall'altra parte c'è una persona per te. La canzone fa così. E' quando non ci sei più, la luce del mattino ha più colori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. Giap Isso. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. E non mi sento più, un piccolo silenzio tra i rumori. Allora, l'ho già detto prima ma lo dichiaro con ancora più forza, io ufficiale dello Stato civile dichiaro che il signor Pialla Maurizio è la signora Assinggolodi, siete definitivamente marito e mele. Passiamo naturalmente alle firme.